Sono diventato il mini Rod E posso colpire in questo modo Eccolo qua Rod, io ti colpisco Bye Carissimi amici, è arrivato per il YouTube E oggi torneremo dopo tanto tempo su Ice Cream 4 Perché finalmente, dopo essere diventati Rod Dopo essere diventati Boris Oggi diventeremo il mini Rod Mamma mia Siamo qua con il nuovo aggiornamento della moda di Outfit Non vedo l'ora di provare queste nuove funzioni insieme a voi E quindi che dire partiamo subito Ma come se hai preso di questo tantissimi like Se l'è chi che lascerete sarò pari Il personaggio associato a voi sarà Boris Se invece l'è chi sarà dispera il personaggio associato a voi Sarà il mini Rod Fatemi sapere qui sotto nei commenti A quelle personaggio che siete associati Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Così anche voi farete parte della Parino Family Partiamo subito Cominciamo e facciamo subito Gioca Si parte di parte Non vedo l'ora di provare questa nuova funzione insieme a voi Sarà veramente molto divertente Diventare il mini Rod E sconfiggere anche tutti quanti gli altri Sarà molto molto divertente Ed eccoci qua Come sempre partiamo dentro le gabbie Qui dentro Chiuso qua dentro in gabbia Perché Rod ci ha catturati Ci ha chiappati E ci ha portato dentro la gabbia Ma noi come sempre riusciamo a liberarci Perché Rod è un gelataio molto distratto Ha lasciato infatti una chiave inglese proprio qui di lato E meno male che l'ha lasciata Altrimenti qua come facevamo a tagliere sto lucchetto Tagli qua velocemente E c'è il mini Roddino che sta passando Ma io me ne vado di qua Ciao mini Roddino Ciao Il bello è che io me ne vado via Ma lui neanche si accorge che me ne sono andato via Neanche si accorge che c'è una gabbia vuota Ma meglio così Meglio così Apriamo quella porta Adesso lì davanti c'è Boris Ma caro michetto Boris Preparati perché molto presto ti affronterò Da mini Rodd Diventerò un mini Rodd E tramite il mio attacco In quel modo lì Ti metterò fuori uso Vai Si comincia Si comincia Tra l'altro come possiamo chiamare l'attacco del mini Rodd? No no seriamente Bisogna trovargli un nome Perché sto cosa si mette a roteare Attaccandoci Ma come si chiama effettivamente l'azione che fa? Vabbè lo chiamiamo rotazione elettrica L'attacco del mini Rodd sarà la rotazione elettrica Apri quella porta Velocemente Adesso andiamo da questo lato E facciamo attenzione al Roddino caro Il nostro caro gelataio Per il momento noi non stiamo utilizzando la modd Non sono né con il god modd E né con il ghost modd Quindi i nemici possono vederci E possono pure attaccarci Ma dopo preparatevi Perché quando diventano il mini Rodd Avrò in modo di difendermi da loro Riuscire a difendermi da loro tutti quanti So Rodd Muoviti ed alzarti di là Così io posso scendere E svitare di là Dopodiché risalire Ciao Roddino caro Ciao Tanto di qua non mi vedi Non mi vedi Neanche si accorge che c'è qualcuno sopra le sue scale Neanche se ne accorge Ma meglio così Meglio così Aspettate dove sta andando Dove sta andando Rodd? Ah ok Per un attimo pensavo che stesse per salire dalle scale Meno male Scendiamocene subito Via 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 So Rodd Tu continua a riparar di là Non ti preoccupare Ci penso io a fare le cose Ci penso io Togli qua uno Su su Prendi qua Stavite insomma Qui proprio bisogna andarci precisi 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 Togli anche di qua Perfetto Lancia di qua Ok Dite che mi ha visto Rodd? Dite che mi ha visto? Vabbè io nel dubbio me ne vado Me ne vado via Lungo questo condotto Lungo la libertà Ce ne scappiamo subito via Togli qua Togli qua Togli qua Eh che roba eh Stava lì a girare con la testa E non toglieva la grata E che cosa stiamo qua? E che facciamo? Perfetto Ed eccoci qua Siamo qui nella zona del magazzino Del gelataio Dove si trova pure il gelato? Lì però c'è un mini Roddino C'è un mini Roddino Ma c'è il gelato Ed eccolo qua Lo prendo volentieri Direi di passare da questo lato Così facciamo prima Arriviamo direttamente Dall'altra parte del magazzino Dove c'è lo shopping E di là dobbiamo mettere Tutti e tre i gelati Quindi velocemente Proviamo a mettere Questo gelato di qua Facendo attenzione Ai vari nemici Che stanno da queste parti Ciao mini Roddino Continua di là a dormire Continua a dormire Non ti preoccupare Ci penso io a fare le cose belle Ci pensa il buon panino Ed ecco qua Cono gelato verde messo Vediamo se troviamo il cono gelato Giallo qui dentro il bagno Proviamo a vedere E no Qui non c'è nessun cono gelato Qui dentro è dentro il gabinetto Che alcune volte Me lo sono trovato pure qua dentro Quindi bisogna pure controllare Gabinetto per gabinetto Ma almeno lo sciacquano Lo tirano qua dentro No così Chiedo per curiosità Vabbè qua nel bagno Non ci sta nessun cono gelato Dobbiamo vedere di qua Dentro la parte del gelato Tanto lì il mini Rodd Ancora non ci ha visto Qui dentro c'è qualcosa E non c'è niente Proviamo a vedere Da queste altre parti Neanche Mi sa che il cono gelato Forse sta di qua Ok l'abbiamo trovato Il cono gelato Già l'ho messo Perfetto Via 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 Corriamo 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 Tanto il mini Roddino è cieco Non mi vede fin qua Infatti non mi ha visto Non mi ha visto Perché è cieco Mette qua Su Veloce Veloce Ok E adesso prepariamoci Prepariamoci perché stiamo Per diventare adesso Il mini Rodd E andremo ad affrontare Gli altri mini Rodd Infatti noi se mettiamo qua Il mod menu Lo zoom un attimo Così lo vediamo anche meglio Così anche voi lo vedete anche meglio Perché è veramente piccolo Ok Hanno aggiunto questo Mini menu Ed è il menu del mini Rodd Ok Ed ecco qua Guardate Sono diventato il mini Rodd Sono diventato il mini Rodd Ah 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 E posso colpire in questo modo Con la rotazione elettrica Posso fermare i nemici Vedo se riusciamo a colpire gli altri mini Rodd Mini Roddino dove sei? Dove sei Mini Roddino? Ti ho visto da queste parti Vieni qua che adesso ti acchiappo io per bene Ti acchiappo io Ok in questo modo Tutti e due ci siamo messi in questo modo Aiuto Ah 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 Ma che roba è Che roba è Tutti e due ci siamo attorcigliati in quel modo Ma posso raccogliere gli oggetti da mini Rodd? Aspettate Sì Un mini Rodd che ha raccolto l'estintore Ma cos'è? Ma cos'è? Andiamo a cercare l'altro mini Rodd Mini Rodd Qua in questo modo Messo fuori uso? L'abbiamo messo fuori uso Spettacolare 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 Ha fatto rumore Ha fatto rumore E ha attirato pure Rodd Il nostro caro Roddino Quindi devo fare tanta 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 attenzione A non farmi vedere da lui Ok Rodd è da queste parti E dove è il mini Rodd può salire dalle scale? Proviamo a vedere Ok velocemente Premi quel pulsante Scusa Premi sto pulsante E premi qua E che roba Vediamo quel mini Rodd che sale dalle scale Guardate Il mini Rodd È salito dalle scale il mini Rodd Ma che bello Ma che bello Spettacolare Vediamo se possiamo mettere fuori uso Boris Però devo fare attenzione Perché adesso di qua io tecnicamente non posso passare Però abbiamo messo fuori uso Rodd L'abbiamo messo fuori uso Scusa Sbloccati 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 Posso aprire sta porta Sì la posso aprire La posso aprire Via 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 Mettiamo fuori uso Boris Vediamo se ce la facciamo Vediamo se riusciamo a togliercelo di mezzo Tanto Rodd dovrebbe trovarsi nella zona del magazzino Quindi tecnicamente dovremmo farcela Ok Boris Preparati ad essere messo fuori uso 3, 2, 1 E ti metto fuori uso Non è successo niente Non è successo niente Boris Cosa? No Mi ha colpito Mi ha proprio lanciato Avete visto come ha lanciato il mini Rodd? L'ha preso e l'ha lanciato così No Ma che bello Beh devo dire che però è stata divertente la scena È stata molto molto divertente Adesso tecnicamente dovremmo essere tornati normali Se non erro Siamo tornati Jay Torniamo ad essere Jay Quindi torniamo qua Muoverci Su su Togli qua E prende questo dipinto Insomma Prendi sta chiave E qua Togliamo quel lucchetto Veloce 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 Tanto il mini Rodd sta di là Via 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 Scappiamo 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 Non ci ha visto Non ci ha visto Meno male Meno male Meno male Apri qua Velocemente Ciao Boris Buonasera Boris Tutto bene Tutto tutto bene Vabbè Allora Facciamo una bella cosa Già che ci sono Vado pure a prendere la scaletta Così ci portiamo avanti anche un po' con il gioco Velocemente Scendiamo di qua Vediamo Sì Boris Rod cosa sta facendo Roddino caro E dov'è Ma Ma seriamente Ma dov'è Ma dov'era Ah eccolo Rod Roddino Ma che stavi facendo Non ti ho visto Non ti ho visto Ma dove stavi Ma dove stava Rodd Via 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 Scappiamo 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 Molto celermente Ce ne saliamo di sopra Veloci 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 Cerchiamo subito di togliere i chiodi Così ce lo togliamo di mezzo Io direi di fare pure un'altra bella cosa Metti qua una bella trappola Perfetto Adesso togliamo qua i bei chiodi Chiodo numero uno Tolto Chiodo numero due Tolto Togliamo pure qua il chiodo numero tre E il chiodo numero quattro Perfetto Adesso apri Qua la porta E vabbè Mini Rodd E vabbè Aiuto Ok Che roba L'ho messo fuori uso L'ho messo fuori uso In questo modo Vabbè Facciamo una cosa Scendiamo direttamente Dal cilindro viola Che abbiamo Sbloccato di qua Così possiamo mettere Direttamente la scaletta Senza beccarci Roddino Allora Apri qua il condotto Perfetto Via 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 Scendiamo 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 Anzi Facciamo una cosa Facciamolo da mini rod Diventiamo qua il mini rod In questo modo Perfetto E andiamo a mettere la scaletta Ok Guardate qua Sono il mini rod Via 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 Scappiamo 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 Veloci 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 Andiamo subito a mettere la scaletta Vediamo se riusciamo pure a rompere Il tetto crepato Da mini rod Sarebbe veramente Troppo troppo divertente Andiamocene qua Veloci 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 Andiamo da questo lato Mettiamo subito la scaletta Perfetto Sarebbe bello Poi da completare il gioco Tutto quanto L'intero gioco Da mini rod Stesso Quindi divento io Mini rod E completo il gioco Solo che c'è un problema Aspettate Perché non posso più utilizzare Ok ora la posso utilizzare Non mi funzionava più il pulsante Per mettere Per usare proprio l'attacco Rotante elettrico La rotazione elettrica Andiamo Ok Metti qua fuori uso No Aspettate Un attimo che Purtroppo con questa mod Quando il mini rod mi prende Mi si toglie anche la visuale E questo è un serio problema È veramente un serio problema Veloci 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 Ce ne andiamo ad qua Da questo lato E raccogliamo subito L'estintore Che tra l'altro Potrei pure portarlo a calci Sta qua Cioè guardate Lo porta a calci Vabbè dai Facciamo una cosa Lo raccogliamo E adesso velocemente Andiamo subito ad utilizzarlo Per rompere il tetto crepato Veloci 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 Dopodiché proviamo a fare pure una bella cosa Voglio provare ad utilizzare L'attacco rotante Basta sto mini rod Ma ero lontano da lui Ero lontano Ma come ha fatto a prendermi Come ha fatto Ma insomma Ma insomma mini rod Ero lontano da me Corriamo 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 Veloci 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 Proviamo a rompere il tetto crepato Da mini rod Sarà veramente troppo divertente Ok Andiamo di qua Velocemente Saliamo dalle scale Perfetto Adesso togliamo qua Abbassiamo l'asse di legno Via Andiamo di qua Qui sopra E ora rompiamo il tetto crepato Ma che bello Ma che bello Adesso comunque c'è da provare a fare una cosa C'è un piccolo problema Io vorrei colpire rod Il nostro caro roddino Però il problema è che Rod mi colpisce Quando io mi avvicino Non ho proprio il tempo di utilizzare L'attacco rotante Che lui mi colpisce Voglio quindi provare a fare una cosa Voglio prima usare l'attacco rotante Prima che lui arrivi Dopodiché Proviamo a fare la stessa cosa Ma con il god mod Adesso roddino dove sei Dove sei caro roddino Caro gelataio Fatti vivo Fatti vedere Basta sto mini rod Sto mini rod Che roba Che roba Caro gelataio Fatti vedere Fatti trovare Che io ti aspetto Ti aspetto volentieri Apri qua Vediamo se è passato a questo lato Roddino caro Io ti troverò Ti troverò E ti prenderò Purtroppo Però qua non ci posso passare Da questo gondotto È vero Non ci posso passare Devo trovare un modo di trovarlo Devo cercare di trovarlo In qualche modo Altrimenti facciamo una bella cosa Andiamo qua Mettiamo tecnicamente Il god mod Il ghost mod Dopodiché andiamo su enemy menu E ci teletrasportiamo Noi da rodd in questo modo Ma che è successo Ma cosa è successo Ma perché mi ha fatto l'attacco Ma praticamente ho colpito rodd in questo modo Ma io voglio soltanto teletrasportarmi da lui Quindi a quanto pare forse Mini rodd attacca in automatico Quando rodd ci vede Voglio provare a fare una cosa Proviamo a fare qua Allora Togliamo come prima Il god mod E il ghost mod Così rodd appena si sveglia Ci vedrà Raddino caro Caro gelataio Vieni qua Vieni qua Che ti aspetto In questo modo Ti aspetto a volentieri Su 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 Però c'è il mini rodd Non voglio farmi vedere da lui Per nessuna ragione al mondo E lì rodd guardate come rimane Guardatelo lì Sembra veramente che Non lo so Si è proprio sdraiato in quel modo Senza energie Senza niente Roddino caro Gelataio Svegliati Alzati da lì Alzati Non è il momento di dormire Non è Guarda pure il mini rodd È andato da lui A dirgli di svegliarsi C'è pure il mini rodd Ero il roddino Sono qua Sono qua rodd Dove vai Dove vai rodd E dai però E dai In questo modo Proviamo a fare in questo modo No Ecco questo dimostra Che rodd Comunque ci prende In qualche modo Quindi a quanto pare Se vogliamo colpirlo Dobbiamo per forza Mettere il godmode Altrimenti Lui ci prende prima Infatti come potete ben vedere Io prima ho usato L'attacco rotante Ma rodd nel frattempo È riuscito sempre A acchiapparci Quindi non va bene Farlo senza godmode Ok vabbè Sentite Facciamo prima In questo modo Mettiamo noclip Godmode Tutto quanto Così c'è Teletrasportiamo direttamente Da rodd Anzi voglio provare Prima a fare una cosa Va Qui c'è boris Che sta dormendo Togliamo quel noclip Togliamo il ghostmode Dopodiché diventiamo Quel mini rodd Voglio provare a colpire Boris in questo modo Ok Boris colpito L'ha colpito da solo Appena si è avvicinato L'ha colpito Non fa niente Non succede niente Cioè boris è più potente Del mini rodd Ma cos'è Ma che sta succedendo Dite che riesco a far cadere Boris da quel buco Non credo proprio Non credo proprio Però guardatelo qua Ma che bello Ma che bello Ma boris proprio Non fa niente Ma che sta facendo Boris Colpiamo boris Da mini rodd Va bene dai Andiamo da rodd Cerchiamo subito rodd Che sta succedendo Si è bloccato boris Cioè no Si è bloccato proprio il gioco Allora andiamo qua Togliamo il noclip Cioè volevo dire Mettiamo il noclip Cerchiamo rodd Mi sta laggando proprio il gioco Mi sta laggando la mod Via 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 Dove sta rodd Roddino caro Dove ti trovi Dove ti trovi Ti cercherò E ti prenderò Anzi proviamo a fare una bella cosa Ma che sta facendo Ma che sta succedendo Ma io ho visto tipo rodd Che si muoveva in automatico In modo strano Togliamo quel noclip Aspettiamo un attimo che si alzi Ma avete visto cosa è successo Non so se ci avete fatto caso In quel nanosecondo di visione Ma le braccia di rodd Sembravano diventate degli spaghetti Si muovevano così a caso Va bene Aspettiamo adesso che rodd si alzi Dopodiché proviamo a colpirlo questa volta E vediamo se riusciamo a prenderlo Con la rotazione elettrica Vai rodd Svegliati Alzati da lì Sembra che ti metti a dormire Che abbiamo fatto qua Il dormitorio dei gelatai Qui siamo qui per fare le cose serie Per fare gli esperimenti Non per dormire Altrimenti adesso io stavo nel letto Col cuscino E facciamo un video mentre dormivo Anziché stare qua E invece no Sono qui per fare il video Per divertirmi con il gelataio Quindi roddino svegliati Alzati da lì per favore Eccolo qua Rod Io ti colpisco Bye Colpito rod L'abbiamo messo fuori uso Va bene dai Direi di fare una cosa Con il mini roddino qui davanti Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Spallicciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video E come sempre vi auguro Buona giornata Buona serata Buona notte Ciao a tutti E buon palino a tutti Buona notte Grazie.